Ciao a tutti, come fare una fantastica prima impressione con la persona che ti interessa? In questo video voglio spiegarti come fare una fantastica prima impressione con la persona che ti interessa. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere, diciamo, gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale, per partecipare alle live e l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online. E adesso veniamo al tema, come fare una fantastica prima impressione con la persona che ti interessa. Intanto la prima impressione, diciamo, scatta molto velocemente, scatta molto rapidamente. Sono poche frazioni in secondo. Noi quando entriamo nello spettro, diciamo, sensoriale di un'altra persona veniamo automaticamente giudicati. Come giudichiamo automaticamente? Sono pochi decimi di secondo. Quindi dobbiamo tenere presente che questa è la prima impressione di natura emotiva. Poi ovviamente la parte logica ci mette un po' di più. Quindi sulla prima impressione è sempre molto, proprio la primissima impressione, è sempre molto difficile agire. Però abbiamo la possibilità di agire. Poi ovviamente c'è una prima impressione logica che invece richiede un po' più di tempo, perché la logica ci mette del tempo a, come dire, a definire cosa pensa di quella persona. Però riceve comunque la spinta emotiva. Quindi se c'è una spinta emotiva negativa, non è facile poi che la prima impressione logica sia positiva. Quindi è bene agire dall'inizio. Il modo migliore per fare una buona prima impressione è l'ironia. L'ironia è qualcosa di fondamentale, perché se tu fai una battuta ironica, appena vedi una persona, dici qualcosa di simpatico, di allegro, interrompi subito lo schema e generi subito un coinvolgimento della parte emotiva. Poi successivamente puoi diventare più, tra virgolette, istituzionale, perché l'istituzione piace alla parte logica. Quindi la parte logica ha bisogno poi di istituzionalità, ma la parte emotiva tende a nutrirsi di trasgressione. Quindi nei primissimi istanti fare una battuta, dire qualcosa, è fondamentale. Quindi questa è la prima parte. Inizia con una battuta divertente, ti conquisterai la parte emotiva. Dopodiché devi conquistarti la parte logico-razionale. La parte logica ha bisogno di fiducia, quindi devi costruire la fiducia in ogni interazione. Ecco, in questo caso ci viene in aiuto la PNL, la programmazione neurolinguistica, che con la, diciamo, il mirroring, il ricalco, il ricalco verbale, il ricalco non verbale, dà la possibilità di creare, diciamo, una sintonia, una sintonia a livello emozionale. Ecco, questo è quello che serve finché la parte logica non metta delle barriere. Il ricalco può essere fatto, diciamo, in diverse modalità. Può essere fatto sia ripetendo le parole che una persona dice, riprendendo le ultime parole e poi dicendo altre frasi successivamente. Può essere fatto, diciamo, mettendo delle... un ricalco, diciamo, speculare, utilizzando semplicemente l'eco, come dire, l'effetto specchio corporeo. Quindi assumere delle posture più o meno simili e poi possiamo utilizzare il ricalco dei canali comunicativi, cioè cercare di capire se questa persona è una persona uditiva e parlargli in chiave uditiva, cioè dicendo parole del tipo mi sono detto, ti suona bene, parlare lentamente, quindi lasciargli in modo di parlare. Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Se la persona è visiva, parla più velocemente, usa parole più dirette e frasi come del tipo, beh, come puoi immaginare, come puoi ben vedere, vediamo. Se la persona è cenestesica, cioè tattile, beh, intanto avvicinati, usa una prossemica più raccolta, stabilisce un contatto fisico e parla in chiave cenestesica. Ricordo che la cenestese è un macrosenso che comprende tatto, olfat e gusto e quindi puoi usare parole del tipo questa cosa non mi va giù, questa cosa mi puzza, afferriamo il concetto, insomma tutte parole che rimandano a questi sensi. In questo modo otterrai, diciamo, di raggiungere una buona prima impressione da tutti i punti di vista. Quindi all'inizio però è importante fare un'interruzione di schema, cioè fare dire qualcosa che possa essere un qualcosa che viene colto proprio dalla parte emotiva e che genera emotività, perché ciò che genera emotività ci dà la giusta tensione, insomma ci permette di entrare in rapporto di sintonia con l'altra persona. Ecco, tutto questo si gioca in pochi secondi. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale, l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!